Seconda volta le scale, eroica, bravo, fatte le scale seconda volta Giorgia, basta. Io mi attacco a te, dammi la mano così se cado cadiamo in due. Adesso lei si attaccherà a te perché dovete... Non mi ha bisogno, guarda, va da 6 alla grande. Come saprei, allora mi avevi promesso. Vi accompagna al piano Maria Grazia Fontana. La maestra. Maestra Giorgia e Leonora. Prego. Come saprei scoprire l'uomo che sei. Come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi. Come saprei, come saprei richiamare gli occhi tuoi, incollarli ai miei, emozionando sempre più. Nel mondo che solitudini ci dà, perché non resti un po' con me. Come saprei, come saprei amarti io, nessuno saprebbe mai. Come saprei, come saprei riuscirci io, ancora non lo sai. Io ci metterò tutta l'anima che ho. Quanta vita sei da vivere adesso, come saprei, io vorrei che fosse già bello il contatto che c'è. Io vorrei che fossero stelle ogni volta con te. Come saprei, come saprei amarti io, nessuno saprebbe mai. Come saprei, come saprei riuscirci io, ancora non lo sai. Io ci metterò tutta l'anima che ho. Quanta vita sei da vivere adesso, sì adesso, come saprei. Sì, è il pubblico in piedi, bravissima. Guarda, è un pezzo tosto questo. È un pezzo tostissimo. Guarda, io... Veramente, brava Leonardo, brava, brava. A tutti i matti della G Gang, gliel'avevo promesso. Va bene, hai fatto bene. Brava, brava, brava. Continua a cantare perché, insomma, puoi avere un futuro con questa voce. che si allena, che già studia, insomma, è una cosa seria. È molto importante, non si finisce mai di imparare. È stato emozionante. Mamma mia, grazie molto. Grazie. 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 È andata. Grazie.